Distanziamento sociale, restrizioni e nuove abitudini, quanto è cambiata la quotidianità per ognuno di noi e quanto è cambiato il lavoro di coloro che sono da un anno a questa parte sempre stati in prima linea nella battaglia contro il Covid come i volontari della Croce Rossa. Abbiamo fatto il punto con Luciano Seri, presidente della Croce Rossa del Comitato di Marotta Mondolfo che afferma ci siamo dovuti reinventare dagli interventi di primo soccorso alle attività di volontariato che l'associazione svolge, niente è più come prima sia sul versante organizzativo ma soprattutto su quello umano. È tutto cambiato nel sistema nostro socio-sanitario, le telefonate sono triplicate, la gente ha paura di andare in ospedale però abbiamo visto che gli anziani vorrebbero ma hanno il timore e la paura di confrontarsi con le strutture ospedaliere. Abbiamo notato anche che salendo in ambulanza i nostri operatori, i nostri volontari, i nostri dipendenti hanno bisogno di una marcia in più per supportare le persone che devono andare a fare anche visite normali perché le vedi che solo già dallo sguardo degli occhi sono disorientate. Tu la persona neanche ti riconosce o non la riconosci allora molte volte fai fatica anche a parlare con un... perché in questo momento tu sei un astronauta cioè con il caschetto, con gli occhiali, con la mascherina, con il camice sopra, i calzari per le scarpe, i doppi guanti. Quindi è difficile e noi abbiamo il supporto dei nostri psicologi all'interno della Croce Rossa che anche a noi aiutano a gestire questa emergenza. Ma non sono solo gli interventi di primo soccorso ad essere ben diversi rispetto al passato pre-pandemia ha continuato seri. Tante sono infatti le azioni di volontariato che si sono aggiunte a quelle già svolte precedentemente dall'associazione o che sono state potenziate come ad esempio la distribuzione a chi ne ha bisogno di viveri, pigiami e coperte ed il supporto psicologico, simbolo di una comunità che necessita di grande sostegno in un periodo così delicato. Il supporto psicologico, che questa è una cosa importantissima. Anche lì ci sono molte situazioni particolari, la gente si vergogna. La pandemia ha portato gente con la depressione, la gente economicamente che ha perso il lavoro, quindi sono tutte situazioni che noi cerchiamo un attimino di aiutarle. Abbiamo delle situazioni per esempio qui che non si era mai sentita, abbiamo delle due o tre persone che vivono al freddo e al gelo. L'unica soluzione che possiamo dargli vestiti puliti, nuovi, qualcosa da mangiare ogni tanto. Noi prima, sì, c'erano delle famiglie, tre, quattro, cinque, sei persone, famiglie che avevano bisogno di... Adesso sono, non dico a centinaia, ma in tutti i tre comuni noi abbiamo quasi un centinaio di famiglie che sono sotto la soglia della povertà.